Ricetta antispreco con cavolfiore e sgombro Tagliamo uno scalogno a metà e lo tostiamo bene in padella Togliamo le foglie del cavolfiore e ricaviamo le teste Aggiungiamo allo scalogno l'olio e le teste di cavolfiore Regoliamo di sale Aggiungiamo acqua Copriamo con un coperchio e lasciamo cuocere per circa 20 minuti Poi tritiamo finemente il peperoncino E apriamo i filetti di sgombro all'olio di oliva di Dicius Usiamo l'olio di conservazione per il soffritto di aglio e peperoncino Uniamo le foglie, regoliamo di sale Bagniamo con un mestolino di acqua e lasciamo stufare per una decina di minuti Quando i cavolfiore saranno ben morbidi Folliamo per ottenere una crema liscissima Tritiamo le mandorle e aggiungiamo le foglie con olive, pomodori secchi e pangrattati Impiattiamo sulla base del piatto la crema di cavolfiore Aggiungiamo le foglie ripassate Con tutto il loro condimento E terminiamo con lo sgombro Buon appetito! E non sprecare!